Gianluca Pini, il Parlamento chiede al Governo di riconoscere la Palestina. Lei come commenta questa notizia? Passo un azzardo pericolosissimo sia da parte di chi in maniera assolutamente incosciente ha proposto questo processo unilaterale in Parlamento ma altrettanto incosciente e dilettantesco da parte del Governo dare questa apertura verso il riconoscimento anche perché come al solito il Governo Renzi ci ha abituato ai proclami e poi andiamo a vedere nei fatti è sempre molto più fumosa la realtà. Sta di fatto però che il segnale politico che viene dato all'esterno è di una pericolosità enorme cioè la Palestina comprende anche aree tipo quella di Gaza che sono sotto il controllo dei terroristi, di Hamas. Se noi diamo a questi signori il riconoscimento internazionale, chiediamo il riconoscimento internazionale di questi signori qui di fatto legittimiamo il terrorismo. In un momento in cui abbiamo il califatto islamico alle porte, perché non è che si trova solo in Siria o in Iraq ma abbiamo visto che è in Libia, è un ulteriore segnale di debolezza dell'Occidente nei confronti del fanatismo islamico e dell'Islam più radicale. Penso che sia un suicidio non solo politico ma anche culturale.